Il più grande spettacolo dopo il bimben, il più grande spettacolo dopo il bimben, il più grande spettacolo dopo il bimben, siamo noi, io e te. Buongiorno e benvenuti qui allo spettacolo questa mattina offerto dall'Istituto Santa Maria di Monte Rotondo. Un applauso a questa bellissima scuola. E allora, poi nel corso diciamo dello spettacolo vi parlerò di questa realtà che è a Monte Rotondo e che dà la possibilità a tanti ragazzi di studiare sia le materie classiche ma anche quello che voi tra un po' vedrete, quindi arti dello spettacolo. E allora, iniziamo subito facendo salire sul palco Barbara Tola. A song for you. E il titolo della canzone è Valentina Mottola. E abbiamo sia ai lati ma dietro di voi soprattutto tutta la parte tecnica, la regina. eccoli ve le salutate lì. La fotografia, venite venite, vieni, 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 facciamo vedere tutto ciò che il Santa Maria offre per quanto riguarda arti dello spettacolo. Eccoli qui. E' anche lei, eh? Eh sì sì, va bene, vieni, 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 come potete vedere faremo sia la parte filmica ma anche la parte fotografica proprio per, come dire, far capire che ci sono sia quelli che sono sul palco ma anche tutta la parte dietro che è importantissima. Quindi ce n'è per tutti. Grazie, grazie e buon lavoro a tutti voi. E adesso facciamo il grande teatro Kabuki. Il teatro Kabuki? Kabuki! Guarda, non c'era sto granché di teatro ma io i buchi comunque non li vedo. Il grande teatro giapponese Kabuki è lo stile, il genere, Kabuki, Kabuki, to' te su, Kabuki. Ma ti arrabbiare? Domani ti chiamo il tecnico, ti faccio fare tutti i buchi che vuoi, guarda verrà bellissimo. Ma che stai a dire? Teatro Kabuki, mettete seduto. Ti senti samurai sumoto? Ti senti sumoto? Io sto su sedia. American Idiot. Dei Green Day. Chitarra e voce. Oh, blime me, don't mind, fuck America. Welcome to a new kind of nation. All across the alienation. Everything is meant to be okay. The edition teams of tomorrow. We're not the ones you're meant to follow. But that's enough to air you. Questa volta è la volta di un'altra alunna dell'Istituto Santa Maria. Ci farà ascoltare un pezzo di Emma. Sarò libera. Veronica Ricci. Era dolce il modo in cui piangevi quella sera. Ti avessi letto forte, forte. E se anche non ci poteva è stata libera. Di poterti dire starò sempre amore magico. Sarà poter volare senza mai cadere a freddo. E cominciati a soffrire. Perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male. E poi baciarti ogni notte. Proprio come le danzare. E cercare le tue mani sempre. Quando nasce il sole. E dimostrarti che fa niente. Il mondo ti fa recoprire. Perché che cosa bella. E non meriti le male. Veronica Ricci. Grazie. Eh, abbiamo ricordato tutte le parole. Eh, aveva il timore di non ricordarsi. Grazie Veronica. I ragazzi sono davvero bravissimi. E c'è da fargli complimenti. Non solo per gli artisti che si esibiscono sul palco. Ma anche per le luci che sono fatte sempre dai ragazzi dell'Istituto Santa Maria. Per la regia. Davvero bravissimi. Di Alessandro, di Filippo. Che poi verrà giù. Si presenterà. Allora adesso voglio subito parlarvi. Perché all'uscita vi daremo questo volantino. Dove appunto vi spiega che l'Istituto Santa Maria. ha questi tre indirizzi. Quest'anno si aggiunge il terzo. E quindi arti per lo spettacolo. Quindi liceo linguistico. Con queste materie aggiuntive. Il liceo aeronautico. Che qui è proprio veramente il fiore all'occhiello. E poi il nuovo liceo scienze umane. È il nuovo indirizzo. E quindi vi diciamo che ogni domenica dalle 10 alle 18 potete venire a visitare l'Istituto con i vostri genitori. E potete quindi prendere maggiori informazioni. Oltretutto potreste anche fare uno stage d'orientamento. Se ne avete l'interesse e l'intenzione fate una domanda alla segreteria dell'Istituto. E verrà oltretutto giustificata l'assenza presso la scuola media. Ma per voi sarà importante perché conoscerete meglio appunto con uno stage le attività che si svolgono all'Istituto Santa Maria. Che sono veramente tante. Avete capito? Sarete in classe con noi. Vi piace l'idea? Quindi sarete uno o due giorni a stare con noi insieme con i professori. Vi accompagneremo. Assisterete sia alle lezioni classiche che curriculari. E poi vi introduciamo anche durante le nostre lezioni di canto, di regia, di recitazione. È una cosa bellissima. Quindi cogliete questa opportunità. Ma adesso passiamo al varietà ancora. Andiamo avanti. C'è un omaggio giustamente alla smorfia. Signore vi devo ammazzare. Oh, è morirò o no? Oh! Sì, no, il cascino della morte è sempre più drammatica. Vada a un bresso. Oh, oh, oh. Oh, che stupezza forte mia, eh? Oh, oh, oh. Oh! Oh, 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 oh. Oh, però a me non te lo faccio tutto, guarda. No? No, cioè, io dico no. Ma che me ha fatto fare? Amore che vieni di Fabrizio De Andrè lo interpreterà per noi Matteo Lambertucci. fra un mese e fra un anno scordatele avrai amore che vieni da me tornerai fra un mese e fra un anno scordatele avrai amore che vieni da me tornerai con domani è un altro film di Dear Jack Eleonora Cico più cancelli e più ti resta il senso ma resta un segno che hai da scrivere e nascondi dentro un mare immenso un mare immenso consapevole riusciremo alle spalle le parole scontate diversi nelle ore di mille giornate lascerò la mia pelle agli sbossi d'umore domani è un altro film e cambiamo il finale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti